Aggressione al centro d'accoglienza, scatta la libertà vigilata, Sondrio rende omaggio ai suoi caduti, vent'anni di Rixor Expo con i vini della Valtellina, a Tirano la poesia di Faber per sempre e poi lo sport, Cross della Bosca, queste le notizie di oggi di Telesondrio News, benvenuti. Buonasera e benvenuti alla nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo questa sera con la cronaca. Un'auto impazzita, due persone ferite, danni a un condominio e traffico in tilt. È questo il bilancio dell'incidente che ha paralizzato la viabilità di un'area nevralgica di Sondrio come Via Aldomoro questa mattina intorno all'8 e mezza. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo alla guida di una Peugeot, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, uscendo dalla rotonda di Via Vanoni e imboccando la strada verso il campus colastico, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo per travolgere lo spartitraffico al centro della carreggiata e la sbarra d'accesso al parcheggio di un condominio, per poi invadere l'alta corsia. Una spaventosa carambola terminata contro la fiancata dell'auto che sopraggiungeva in direzione opposta, guidata da una giovane. Immediato l'intervento dei soccorsi. I due sono stati trasportati all'ospedale di Sondrio in codice giallo. Gravi rallentamenti alla viabilità della zona. Per limitare i danni e permettere lo spostamento dei mezzi, la strada è rimasta percorribile a senso unico alternato. Rimaniamo a Sondrio con la cronaca. È scattata la libertà vigilata per l'uomo che aveva aggredito con un coltello un altro ospite della struttura della Caritas in via Parravicini. Vediamo i dettagli nel servizio. Libertà vigilata. Con questo epilogo si conclude la spinosa vicenda che ha preso il via il 24 gennaio scorso, dopo che era stata segnalata un'aggressione al centro d'accoglienza di via Parravicini a Sondrio, gestito dalla fondazione Caritas Diocesana da parte di un giovane ospite affetto da disturbi psichici. Il ragazzo, armato di coltello, era stato fortunatamente fermato in tempo e si sarebbe poi allontanato autonomamente dalla residenza del centro storico dove trovano asilo italiani e stranieri in difficoltà. Accusato anche di altri episodi di violenza, il giovane, di origine nordafricana, ora vivrà in regime di libertà vigilata presso il Dipartimento di Salute Mentale di Sondrio, in attesa di individuare una collocazione più idonea alle sue condizioni psichiche. La spinosa questione era già stata affrontata ad alti livelli istituzionali nel corso di un incontro voluto dal prefetto per cercare una soluzione concordata con le altre autorità della provincia. La decisione pone così la parola a fine una vicenda alquanto travagliata. Come travagliato è stato il destino del suo protagonista. In un primo momento, infatti, il soggetto era stato accompagnato da due pattuglie della polizia di Stato presso una comunità psichiatrica della provincia di Como, dalla quale era riuscito ad allontanarsi. Rintracciato dalla polizia stradale di Como, mentre vagava visibilmente disorientato lungo l'autostrada A9, era poi stato accompagnato presso la struttura nella nostra provincia. La libertà vigilata, eseguita presso il Dipartimento di Salute Mentale, secondo le parole della Questura, chiude una situazione che aveva destrato un certo allarme sociale, dovuto soprattutto al fatto che l'uomo, allontanato dal centro d'accoglienza, vagava per la città, trascorrendo le notti nella galleria di via Parravicini. È stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio un 48enne di sondio, da tempo sotto controllo degli agenti della Polizia di Stato. I militari lo hanno sorpreso in piazza Cavour, mentre cedeva una dose di eroina ad un 59enne, anch'esso pregiudicato, di Montagna in Valtellina. Un terzo uomo, un 37enne di Piateda, anch'esso pregiudicato, alla vista degli operatori, ha consegnato spontaneamente la dose agli agenti della Questura, ammettendo di averla ricevuta poco prima dal 48enne. Per i due acquirenti è scattata la segnalazione in prefettura, quali assuntori e la sanzione amministrativa prevista. Il 48enne, invece, è stato collocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Con una cerimonia toccante e sentita, la città di Sondio rende omaggio alla memoria dei suoi caduti. La morte, il dolore, il sacrificio, sono valori immensi e ricordarli è un dovere morale. A questi eroi chiederò di aiutare i giovani di oggi, perché in questo luogo si avverte la loro presenza che è viva, sacra e non tramonta mai. Con queste parole, il prefetto Giuseppe Mario Scalia ha dato il via alla cerimonia commemorativa che ha accompagnato la posizione della targa, in memoria ai caduti del liceo ginnasio Piazzi di Sondio, scomparsi durante i due conflitti mondiali. L'iscrizione su metallo, collocata ieri sulla facciata del palazzo dell'Agenzia delle Entrate, è stata benedetta dall'arciprete Monsignor Marco Zubiani, nel corso di una mattinata ricca di momenti di raccoglimento e profonde occasione di riflessione. Una cerimonia sobria e sentita, durante la quale le autorità del mondo civile e religioso hanno reso omaggio ai nostri valorosi soldati, scomparsi da eroi in episodi tragici delle guerre che hanno caratterizzato la prima metà del Novecento. La targa, realizzata dalla sezione Unucci di Sondrio e dall'Ana Valtellinese, andrà a sostituire le lapidi in marmo già presenti sulla facciata dell'edificio, testimoni silenziose del sacrificio di giovani soldati destinate a un prossimo restauro. Questa targa è stata messa in quanto le lapidi dove sono riportati i nomi dei caduti sono purtroppo da restaurare e noi per salvaguardare questa memoria di questi caduti abbiamo voluto proprio mettere una targa in chiaro, così in modo che tutti quelli che passano possano vedere e ricordarsi di questi caduti che hanno donato la loro vita per la patria. Il lavoro, questo è solo l'inizio, continuerà e cercheremo di provvedere anche al restauro complessivo delle due lapidi in marmo che chiaramente sono monumenti storici e quindi necessitano di lavoro e di ristrutturazione ma molto più attenti di quelli che possono essere quelli di una targa che comunque ha un valore storico molto importante. L'obiettivo è ambizioso, dopo mezzo secolo di abbandono l'amministrazione comunale di Piuro punta a recuperare l'utilizzo dei versanti di mezza costa, una volta coltivati a vigneto per nuove attività agricole e forestali. Su questo tema si sono confrontati oggi l'assessore regionale all'agricoltura Gianni Fava e il sindaco del comune Chiavennasco Omar Iacomella insieme all'assessore all'urbanistica e allo sviluppo territoriale Giorgio Succetti. Un progetto ambizioso per il rilancio di un'area a vocazione agricola tra le più significative nella produzione distintiva e di qualità, ha Spirato Fava. La riscoperta del Chiavennasco come idea e la vocazione vitivinicola insieme a una più efficace gestione del patrimonio forestale sono due elementi importanti di sviluppo territoriale. A riguardo in questi giorni stanno uscendo le misure PSR sulla forestazione e noi ci impegneremo affinché le risorse vengano allocate secondo le aspettative. Ristore Expo brinda i 20 anni con l'eccellenza vinicola della Valtellina. Vediamo i dettagli nel servizio di Elisa Compagnoni. Neno gastronomia ancestrale è quella gastronomia fatta di profumi e sapori antichi, quelli spesso dimenticati, ma che hanno invece segnato la storia culinaria del nostro paese. Su questo light motive, Ristore Expo, la mostra per l'eccellenza del settore hotellerie, ristorazione e caffetteria presso l'Aerofiere, ha deciso di celebrare i suoi primi 20 anni per riproporre un nuovo tipo di enogastronomia che possa far rivivere le emozioni di un tempo che vanno al di là della materialità. Un appuntamento che va dal 12 al 15 febbraio a cui il consorzio tutela Vini Valtellina a Val Chiavenna, capitanato da Mamete Prevostini, ha deciso di aderire ormai da 5 anni. Si tratta di una collaborazione importante che permette di far conoscere il nostro rosso oltre i confini nazionali. Noi abbiamo bisogno di sdoganare un modo di dire che il vino della Valtellina si beve solo quando si va in Valtellina o accompagnato ai piatti valtellinesi. Il vino valtellinese può essere accompagnato a qualsiasi cosa, può essere bevuto in qualsiasi parte e in qualsiasi stagione. Un connubio a cui ora non sa più rinunciare nemmeno la fiera lariana preseduta da Giovanni Ciceri, che insinergia con Conf Commercio e Fipe, la federazione italiana pubblici esercizi, che riesce a combinare in maniera sapiente la funzione di vitrine e promozione per gli espositori, quest'anno 200, fra cui 20 case vitivindicole valtellinesi, a quella dell'edutainment, che vede all'opera noti chef ed iniziative collaterali che permettono di tracciare le tendenze del settore. Non a caso ci sarà uno spazio dedicato ai giovani, tra cui vedremo impegnati in prima linea le promesse del settore Emanuel Colombo, Davide Caranchini ed Alessandro Colombo, quest'ultimo alle prese con un antimburger ancestrale, un panino che rivive le tradizioni italiane ma anche valtellinesi, essendo di segale. La sfida dunque è quella di rivolgersi alle nuove generazioni, anticipando il futuro. Ci sono anche, come abbiamo già avuto in passato il Perù, quest'anno abbiamo la cucina peruviana, una nuova cucina che pensiamo possa essere interessante, sia come bacino ma anche come luogo per conoscere questa nuova realtà dal punto di vista gastronomico. Sicuramente darà grande soddisfazione o comunque c'è grande motivo di curiosità anche perché ci saranno produttori della Polonia, ma noi vorremmo anche che i nostri produttori vendessero in Polonia, perché è un mercato molto interessante, soprattutto per la valtellina, secondo noi. Un progetto di legge regionale che riconosca, da una parte, agli impianti di risalita la valenza di servizio pubblico locale e dall'altra possa consentire una suddivisione degli aspetti patrimoniali che dovrebbero rientrare nel novero di una gestione pubblica territoriale, dalle dinamiche gestionali che devono essere in capo a soggetti privati. È questa la proposta lanciata dal sottosegretario Ugo Parolo, presente all'incontro tenutosi ieri a Bormio con gli amministratori locali e gli operatori del settore sul tema del rilancio del sistema impiantistico. Questo lavoro di studio, ha commentato Parolo, vuole costituire un prototipo che, nell'intenzione di Regione Lombardia, sarà da estendere a tutto il territorio regionale. La legge, di fatti, arriverà a dare una risposta di carattere generale all'intero sistema economico del settore. Le immortali poesie e musica di Fabrizio De Andrè incantano a Tirano grazie a un omaggio particolarmente sentito. Più che un concerto, una medicina per l'anima, l'esibizione tributata a Fabrizio De Andrè dai Faber per sempre, il gruppo musicale capitanato da Pier Michelatti, bassista storico dell'artista Ligure, lo scorso sabato sul palco del Cinemateatro Mignon di Tirano. Circa vent'anni di condivisione, di collaborazione, di vita comune, narrati al numeroso pubblico in modo confidenziale, quasi intimo, a fare da contrapunto a una esecuzione musicale dai livelli davvero alti, che, ripercorrendo le differenti fasi artistico-musicali di De Andrè, ha donato ai presenti dei vibranti sensazioni di una reale performance del cantautore genovese. Quando salgo sul palco a riproporre Fabrizio, io godo. E poi, cioè, io sono naturalmente un nostalgico, proprio di natura, e quando suono questi pezzi ogni tanto penso a lui, lui è stato per me come un fratello maggiore, insomma. Se non era per lui, molto probabilmente sarei stato un geometra fallito. Davvero una bella compagnia, quella sul palco, composta oltre che dal bassista pemontese, da Ivan Appino alla voce, Alessandro Cristilli alla batteria, da Paolo Guercio alle tastiere, Anais Drago al violino e Giorgia Bovolenta, voce femminile. I nostri concerti troviamo gente di 70 anni, anche di più, e gente di 18. E' bellissimo, è una roba, Fabrizio becca tutti, becca, era un grande, un poeta vero, un poeta vero. Anche se per me era un grande cantante anche, che pochi lo dicono, pochi rimarcano il fatto che fosse un grande cantante, dicono tutti è grande poeta, uno che scrive bene, ma era anche un grande cantante, tecnicamente era pazzesco. A dirigere l'evento, in collaborazione con la cooperativa sociale in Trecci e il patrocinio del comune di Tirano, Ezio Bianchi. Come pathos, come impatto questa sera, credo che sia una delle serate più belle, anche da un punto di vista emozionale mio, intimo, forse la più, anzi, mi sento di dire quella che mi ha emozionato di più. Quando ho partecipato alla registrazione dell'Indiana, per me era tutto nuovo, perché subito non mi ero accorto con chi sarei andato a collaborare, poi mi sono reso conto, ho detto porca miseria, questo è un calibro, e per me era tutto nuovo, avevo 22-23 anni e mi ricordo che la registrazione di quel disco c'è un'ave maria, sarda, che è una roba da pelle d'oca, dove cantava anche Fabrizio, un coro simil sardo, e quello mi ricordo quell'estate, per me è stata l'estate dell'82, mi ricordo Italia campione del mondo, campione del mondo vera, non come quella del 2006, ai rigori. Nuove polemiche legate al trasporto ferroviario. Questa volta è un'immagine a denunciare l'ennesimo gravissimo episodio registrato in provincia, un'immagine che parla da sola, il treno in transito e le sbarre del passaggio a livello che, al posto di abbassarsi regolarmente per imperildire il transito dei veicoli, ciclisti e pedoni, rimangono sollevate. Una svista clamorosa che avrebbe potuto causare pesantissime conseguenze. Siamo in località Trippi, alle porte di Sondrio, dove un residente ha immortalato l'allarmante scena. Scalpore e polemiche da parte dei cittadini che sui social si sfogano, questo è tentato omicidio. E ora, spazio alle notizie dal mondo dello sport con Elisa Compagnoni. Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento dedicato allo sport. Questa sera apriamo con la Corsa Campestre, l'ennesimo successo per il Cross della Bosca a Morvegno, ma vediamo tutti i dettagli nel servizio. Vittoria in casa per il CSI Morvegno nel Cross della Bosca. La Corsa Campestre valida sia come campionato provinciale che come regionale, quest'ultimo solo per le categorie master, organizzata ieri dall'Associazione Sportiva della Bassa Valle. Sono stati infatti Roberta Ciappini e Marco Leoni ad aggiudicarci all'edizione 2017, come sempre disegnata all'interno del Parco Protetto della Bosca. La giovane promessa della società morvegnese, impegnata nella prova femminile senior da tre chilometri, dopo un serrato testa-testa con Alice Gaggi, è riuscita a spuntarla proprio sul finale, mettendosi alle spalle la vice campionessa europea di Corsa e Montagna. A chiudere il podio, la junior Elena Mainetti. Marco Leoni ha dovuto invece battagliare nella prova da sei chilometri con il compagno di club Stefano Martinelli, che alla fine si è dovuto arrendere a Leoni andando ad occupare il secondo gradino del podio. Terza piazza per un altro rappresentante del CSI Morvegno, Francesco Peronel. Nella top 5 anche Mirko Bertolini e Francesco Della Torre. Ma ad aprile della giornata ci hanno pensato le categorie master, nelle quali si sono imposti fra le donne e Patrizia Tisi, già campionessa italiana di mezza maratona e tre volte di cross, e Stefano Sanzi e Roberto Pedroncelli, rispettivamente nella categoria master 35 e quella 50 ed oltre. A livello regionale il successo femminile è andato all'atletica paratico, di un solo punto davanti ai rivali di Lumezzane, che si sono invece aggiudicati la prova maschile. Per quanto riguarda invece le categorie giovanili, vittoria di Francesca Tirinzoni e Nicola Rossi fra gli esordienti, di Leon Bordone e Maria Gusmeroli nelle ragazze, di Serena Lazzarelli e Nicola Fumagalli nei caretti, e di Gabriella Martelli e Cristian Menghi negli allievi. Il trofeo Avis Morvegno è in palio per la prima società, è andato all'organizzatore del CSI in Morvegno. Ed ora invece è il tempo di passare alla sene, i risultati sportivi del fine settimana. Partendo dal calcio, il Sondro sconfigge il Caprino per 2-0, grazie ai gol di La Padula e della Cristina, un'importante vittoria che permette ora ai bianco-azzurri di essere solo i meno 4 punti dalla quinta piazza. Sconfitta di misura invece per la Pezzini, impegnata nel campionato di Serie C di Basket. I morvegnesi sono stati sconfitti per 77-74 dall'ESMO. Enesma vittoria invece per la BM, che con la Gerardiana nel campionato di Serie B ha ottenuto il successo per 77-51. Ed ora invece passiamo allo sci. I mondiali di sci alpino di San Moritz hanno aperto i battenti. Con le prove ederne di discesa libera svolte nella giornata, si è alzato il sipario sulla rassegna intercontinentale, che vedrà a schierare nella rosa italiana anche le due valterinesi Irene e Elena Cortoni. La più giovane delle sorelle Cortoni, già scesa in pista a quest'oggi, debuterà domani nel Super G. E con questo si conclude il nostro notiziario di sentirci alla prossima edizione. E con lo sport si conclude il nostro telegiornale. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Buona serata!